A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Che ha un titolo particolare ma che sarà molto pratico e arriverà molto al succo della situazione. Allora intanto saluto un po' tutti e vi chiedo se... no, mi avete già risposto. Audio e video ok, quindi molto bene. Allora, altra domanda. Volevo farvi questa domanda perché il tema di oggi è un tema importante. Come avete visto il topic è tra sogno e realtà. Dove focalizzare concretamente il tuo trading? Quindi noi saremo direi concreti, molto concreti. Perché molte volte chi si avvicina a questo mondo del trading in effetti rischia di lavorare di puri sogni e non riuscire a poi far diventare questi sogni degli obiettivi più che dei sogni. e quindi poi cercare di realizzarli. Quindi oggi parleremo proprio di questo. Parleremo di alcuni punti che a mio avviso dobbiamo inserire diciamo nella nostra... nel nostro piano. Ecco, che non è il piano di trading nel senso della strategia che si utilizza ma proprio il piano per focalizzarci e per farlo dobbiamo prima farci delle domande. Quindi oggi partiremo con delle domande e quindi ho bisogno di una vostra mano, di un vostro aiuto, di un vostro supporto nel fare questo webinar. Quindi vi farò delle domande, magari ci rispondiamo. E la prima domanda è se quello che voi oggi state facendo, ovvero il trading, vi soddisfa o meno. Cioè oggi voi vi guardate, guardate magari adesso ovviamente chi fa trading da qualche mese, no? Magari soprattutto chi fa trading almeno da due anni, si guarda indietro ed è contento dei passi che sta facendo, ha chiaro il proprio futuro, ha chiara la propria... il proprio, chiamiamolo così, domani da un punto di vista proprio del trading. Perché nel trading non si può guardare solo il presente. Dobbiamo anche cercare di fare un lavoro oggi, quindi presente, che però poi va a realizzare degli obiettivi che sono futuri, che non devono essere per forza di lunghissimo termine, ma che comunque hanno magari nel mese, nel trimestre, nell'anno che stiamo vivendo degli obiettivi. Ecco, è molto importante. Quindi la prima domanda che vi faccio è questa. È ovvio che non serve che per forza mi rispondiate qui. L'importante è che la risposta la date a voi stessi e soprattutto che non vi diciate bugie, soprattutto, perché è molto molto importante. Allora, io partirei da questo. Quindi, se vi siete risposti a questa domanda qui, ovviamente, ripeto, chi fa trading da sei mesi, no. Però, chi fa trading da un po' di tempo, ben venga. Facci faccia questa domanda. Allora, intanto, dove focalizzare il nostro trading? Allora, io mi sono fatto un foglietto qui, guardate, dovreste vederlo. Un word, con questo titolino, che andremo a riempire insieme. Perché io cercherò, con delle domande, di rispondere anche a queste domande e andrò a fare, come dire, un bademecum, una lista ordinata di cose per capire veramente come rifocalizzarsi nel trading o focalizzarsi. soprattutto nel momento in cui noi, diciamo, possiamo non essere ben centrati. Ok? E questa è una cosa tipica. Fate conto che nel trading, solitamente, ci sono, come sapete, tantissimi che fanno fatica a guadagnare. Si tratta circa di un 80-20, il classico 80-20 di tantissime cose, no? Il principio di Pareto, ma in generale è così. E nel trading è assolutamente vero. Allora, la prima domanda che io mi devo fare per rifocalizzare il mio trading è che tipo di trader voglio essere? Chi conosce questo mondo sa, e chi si sta avvicinando, sa che ci sono tantissime sfaccettature nel trading, ci sono tantissime modalità per esserlo, e quindi, prima di tutto, quando noi vogliamo fare questa attività, anche se la volessimo fare, non per forza, come una primaria attività di sostentamento, ma anche come solamente gestione dei propri risparmi. in ottica più di trading, ovviamente, non stiamo parlando di investing, quindi noi dove andiamo a inserire delle posizioni annualmente e hanno quindi una durata molto lunga, ok? No, io sto parlando di trading, quindi massimo qualche mese di operatività, a livello proprio di operazioni, fino ad arrivare addirittura all'intraday. Cioè, quello è il trading. Quindi, la cosa che io devo capire è che tipo di trader voglio essere. Cioè, per fare questo tipo di attività, prima di tutto, mi devo fare questa domanda. E le mie prime risposte sono voglio essere un trader fondamentale, voglio essere un trader tecnico, voglio essere entrambi, voglio essere un trader discrezionale, o voglio essere un trader non discrezionale, sistemico. E poi, voglio fare un trading intraday, o voglio fare un trading multiday, o addirittura, in alcuni casi, multi-week, o entrambi. Ecco, le prime domande da che tipo di trader voglio essere, in giù, sono queste. Allora, io ovviamente qui adesso metterò dei punti e vi metto i miei, nel senso che io vi farò queste domande che prendono un ventaglio di cose, di modalità. Poi, ovvio che per farvi capire come faccio il mio focus, come faccio la mia focalizzazione del mio trading, ovviamente io vi metto il mio esempio, che non deve per forza essere il vostro. Ok? Quindi io oggi non voglio stilare una lista di cose, dove focalizzare il nostro trading, che devono essere per forza vostre, ma voglio farvi le domande, che poi vi potete fare anche voi stessi, per magari cercare di dare un po' di focus, no, alla vostra attività. Ok? Però ovviamente, per poter essere anche più chiaro e pratico, ho bisogno di fare una lista poi mia, così voi che capiate come si possa fare. Ok? Quindi allora, prima di tutto, fondamentale, tecnico, oppure entrambi. Questa era la prima idea. Allora, io sapete che, ovviamente lo saprete, io faccio un trading principalmente tecnico. Ok? Quindi, cosa significa? Per chi è novizio. Io faccio un trading che è principalmente basato sullo studio dei grafici. Poi ovviamente dire trading tecnico, anche qui è assimilabile a un mare di metodi, ma poi ci arriviamo. Ok? Quindi, intanto, se cerco di, quindi se mi faccio la domanda che tipo di trader voglio essere, e capisco che il trading che voglio fare è un trading tecnico, dovrò poi successivamente sviluppare le competenze che mi servono per fare questo trading tecnico. Se io voglio, invece, fare un trading di tipo esclusivamente fondamentale, è ovvio che anche qui dovrò fare degli studi e quindi acquisire delle competenze che sono primariamente fondamentali. Cosa significa fondamentali? Significa che, in base un po' ai mercati che vado a trattare, anche questo ci arriviamo dopo, dovrò conoscere le basi dell'analisi fondamentale. Quindi, per esempio, se vado a trattare il mercato delle valute, dovrò conoscere i principi della macroeconomia, no? Quindi, i tassi di interesse, la bilancia commerciale e tutti questi dati che possono andare a influire su determinate variazioni di prezzo. se faccio un trading fondamentale sulle azioni, sui titoli azionari, diciamo che questa analisi fondamentale, anche se devo sempre avere la conoscenza della macroeconomia, quindi comunque anche lì tutto quello che riguarda l'analisi dei fondamentali proprio economici, quindi, ripeto, ancora tassi di interesse, eccetera, politiche monetarie, bla bla bla, dovrò anche conoscere come andare ad osservare un'azienda da un punto di vista proprio dei suoi dati finanziari ed economici, andare a vedere che tipo di progettualità, vedere i bilanci, conto economico, andare a vedere se è sopravvalutata o meno, e tante altre diciamo altri dati che si vanno ad osservare nel momento in cui si fa un trading fondamentale, quindi questa è la prima cosa, se io voglio fare il trading tecnico e per esempio voglio fare un trading con l'analisi tecnica tradizionale, dovrò andarmi a studiare, quindi acquisire le competenze almeno teoriche di quelle che sono le basi dell'analisi tecnica tradizionale, in questo caso dico tecnica tradizionale poi sapete che nel tecnico e poi ci arrivo più tardi ci va una marea di robe, però devo conoscere come si forma un trend, quali sono le figure di inversione, le figure di continuazione, tutte queste cose tecniche. Poi posso anche decidere che invece io voglio andare a studiare entrambi perché magari nel tipo di trader che voglio essere almeno inizialmente vorrei conoscere entrambi per fare un trading mixato che è possibile, ci sono tantissimi trader che lo fanno più o meno conosciuti e quindi avere queste due modalità anche in base un po' al mercato e al periodo per poterle mixare e fare un trading di questo tipo però ovviamente se voglio questo dovrò sempre anche lì un po' alla volta cercare di focalizzare inizialmente la mia attenzione sullo studio delle due cose che vi ho detto quindi io non è che mi metto vedo che c'è la possibilità di fare trading e mi metto lì a fare trading perché mi piace il mondo dei mercati mi piace leggere il sole 24 ore e ascoltare le news vedere il mercato che si muove e quindi aprire un conto che è molto facile iniziare a tradare prima di tutto se fate una cosa del genere sapete che come ogni attività professionale il buttarsi senza conoscenza purtroppo porterà al fallimento quindi la prima cosa da fare è cercare di acquisire le competenze con lo studio teorico e andarle a in come dire come un imbuto no andarle a direzionare diciamo dove vogliamo andare a studiare quindi l'ambiente tecnico l'ambiente fondamentale o entrambi se dovesse essere entrambi per poi magari prendere anche poi successivamente delle decisioni di come si vuole fare ovviamente dobbiamo dobbiamo studiare e dobbiamo quindi andare a prenderci ma inizialmente ci sono anche ormai svariate risorse gratuite IG stesso le mette a disposizione sul canale YouTube anche questo webinar per esempio e tantissimi altri con tantissimi altri bravissimi trader poi ci sono c'è il mio canale YouTube per esempio un'altra fonte gratuita di tantissime nozioni e nel nostro canale io ho il mio collega ormai il mio ex corsista siama Sasha che tratta in maniera abbastanza capibile da tutti anche l'aspetto fondamentale oltre che io invece l'aspetto tecnico più del mio metodo ok quindi eccoci avete la possibilità anche gratuitamente oggi di trovare delle risorse sicuramente rispetto a anni fa ok anche perché per fare trading diciamo che qui io voglio smentire il fatto perché tante volte no fai trading e che studiai perché per fare trading serve l'università serve una laurea no ok no non serve non serve assolutamente le risorse che si possono trovare attraverso corsi sani professionali seri o comunque scavando ci sono ripeto anche questo stesso webinar e tanti altri che teniamo anche con i G con altri ripeto bravissimi professionisti vi possono già dare delle basi è ovvio che se io vado solamente a studiare non posso pensare che dopo un webinar dopo un corso dopo anche 10 webinar 10 corsi io possa già diventare un grandissimo trader e un bravissimo trader perché non è così ecco ok allora io faccio mi faccio l'esempio mio allora io sono un trader tecnico quindi per me questa domanda che io mi sono fatto io mi scrivo tecnico ok tecnico come discrezionale o non discrezionale dicevamo prima anche qui è una domanda che mi devo fare cioè io voglio fare il trader tecnico benissimo quindi vado a studiarmi quell'aspetto lì e quando faccio delle scelte operative le faccio solo ed esclusivamente sulla parte tecnica ok quindi non mi importa che un'azienda sia buona se è buona ma non ha l'aspetto grafico a mio favore non va bene anzi qua mi piace di più scrivere grafico perché io poi faccio price action quindi non è proprio esattamente analisi tecniche quindi trading trader grafico mettiamo ok mi piace di più non non fondamentale io è quello che vi dicevo all'inizio è un esempio ok discrezionale o non discrezionale quindi il trader grafico può decidere di essere entrambi come prima o essere uno o l'altro cosa significa discrezionale vorrà dire che pur avendo una metodologia quindi avendo delle tecniche operative avendo un piano vado sempre poi a ragionare in base alla situazione di quel momento per fare trading quindi ragiono cioè se mi trovo di fronte sapete no mi trovo di fronte a un bel trend e poi alla classica mia famosissima pin bar ormai la conoscete da anni che la ve la spremo in ogni webinar seminario dal vivo non dal vivo eccetera se questo mi dice di scendere per me è scendere se ci sono le condizioni grafiche per me è scendere è ovvio che non è perché c'è questo ed ecco qui quello che dicevo prima che per me è scendere sempre allora il trading discrezionale qui ci ragiona comunque e poi magari vende il trader che invece non è discrezionale ed è quindi sistematico no cioè utilizza questo tipo di strategia come sistema grafico costante e continuo qui lui non ha tempo non vuole ragionare dice siccome la statistica quando si viene a creare una determinata situazione grafica mi dice che qui la statistica è a mio favore io qui vendo ok quindi bravo cloud i software i sistemi insomma gli algoritmi ok no io no io voglio essere un trader e anche qui dopo dovete voi fare la vostra scelta trader discrezionale ok io io personalmente con l'esperienza che ho che non è per forza giusto per voi ok il trading è un percorso molto personale ragazzi quello che va bene per me non è detto che vada per forza bene totalmente per voi ci può essere qualche caso in cui il mio approccio che non è solo la tecnica è tutta una serie la metodologia è tutto il mio approccio possa essere quasi al 100% per alcuni di voi ma non è così per tutti quindi noi dobbiamo trovare la nostra strada nel trading ok quindi trader grafico trader discrezionale benissimo trader discrezionale per me però ci sono tantissimi altri bravissimi trader non discrezionali perché a me piace ragionare quando vedo qualcosa nella mia storia nella mia esperienza ho trovato più giovamento a ragionare rispetto a non ragionare e tradare come un robot ok quindi preferisco essere così bene vedete che sto delineando il mio focus chi sono intanto per arrivare poi all'obiettivo intraday multiday che tipo di trader voglio essere voglio essere un trader che fa operazioni durante la giornata e a fine giornata non so entro le 22 italiane la posizione comunque si va a chiudere o voglio essere un trader multiday quindi ci sta che l'operazione ogni tanto l'apro la mattina la sera si chiude per qualche determinato motivo ma in linea generale apro un'operazione la tengo qualche giorno addirittura qualche volta qualche settimana cioè vado a cercare i punti di swing quello che si chiama swing trading che è quello che faccio io del mercato quindi vado a prendere da un punto A a un punto B o comunque prendo un punto A che credo che nei prossimi giorni possa avere un movimento a mio favore e vado a comprare o vendere ecco questa è un po' la situazione io personalmente poi possono anche essere tutte e due ok io personalmente preferisco un approccio multi day multi day ma non mi vieta in alcune circostanze di fare delle operazioni che possono anche essere più rapide cioè mi è capitato mi capita di magari fare un'operazione che si apra magari la mattina e magari durante la giornata fa un'esplosione fortissima e decido di incassare la sera o il giorno dopo quindi sia un multi day però tendenzialmente non è un'operazione che dura qualche giorno come ci sono operazioni che magari durano un po' più giorni vi faccio vedere per esempio qua vedete per esempio ho un'operazione qui sul bitcoin short che è dentro che è a mercato dal 27 di aprile ok addirittura ero entrato ancora il 22 e sono uscito il 25 quindi vedete un'operazione che dura 3 giorni e questa che sta durando 1, 2, 3 beh qua c'è anche il sabato e domenica 4, 5, 6, 7 giorni ok quindi potete ben capire che questa è un'operazione oppure ho un'operazione su dollaro canada in questo momento long che l'ho fatta addirittura in un ambiente settimanale quasi mensile voglio andare a prendere un movimento ampio del mercato quindi qui io vedete dove ho lo stop lontano non mi importa che lui possa swingare si muova cioè se swinga magari è un ulteriore punto di entrata e stessa cosa vale su aerosterlina io qui sono entrato lungo e anche qui vorrei andare a prendere un movimento magari di qualche settimana quindi per me e inizio quindi con un piccolo investimento per poi andare a incrementare nel caso in cui la posizione vada a mio favore per esempio però non voglio adesso non è questa cosa di tecnico qui ma era per farvi capire quindi io io preferisco il multi day perché mi permette di avere una certa padronanza delle mie posizioni gestire meglio l'operazione non dover per forza essere troppo come dire troppo attaccato ai grafici ogni secondo ma lascio che i movimenti di swing possano poi confermarmi o meno la mia view e poi può essere incrementata o meno tra l'altro questa strategia di trading chiamiamolo così questo approccio al trading va anche a minimizzare le spese al nostro carico perché è vero che noi sembra che non ce ne abbiamo di spese perché tante volte diciamo tanto pago lo spread non me ne accorgo però sappiate che poi a fine anno questi soldi si pagano e è importante siccome IG tra l'altro ha anche delle commissioni molto basse lo spread molto basso poi tra l'altro anche con i turbo ci sono quindi ci sono vari strumenti che ci permettono allora però dobbiamo comunque anche qui cercare di non cioè di effettuare le posizioni che vanno fatte quindi per me avere una visione di fondo della cosa e quindi operare non da qui a un'ora o da qui a qualche minuto come nel classico stile scalping ma operare più di qualche giorno mi permette di rappresentarmi una view sul mercato e di cercare poi di rappresentarla anche con i soldi che io vado a mettere sul mercato cioè a investire che sia un titolo che sia un titolo azionario che sia appunto euro sterline o il bitcoin o l'S&P 500 non importa ok quindi diciamo che in generale ve lo dico è sconsigliato andare a cercare profitti contenuti o perdite contenute nel senso del termine cioè di fare dei stop strettissimi e profitti strettissimi che il trading così quasi scalping a elevata frequenza diciamo che tende a essere a dare un risultato in perdita al più dei trader poi ci sono anche quelli che saranno bravi ok ma in generale questo perché poi vi aumenta tantissimo le commissioni e poi alla fine spendete più di quello che date al broker che quello che realizzate voi ricordate la frase ve lo dico io se non la sapete di Warren Buffett che diceva se tu fai costantemente operazioni una cosa del genere non so esattamente ma era una cosa del genere se fai costantemente operazioni durante la giornata sul mercato vorrai essere il tuo broker e non il tuo socio Warren Buffett non è che sia l'ultimo arrivato è vero che lui è un investitore non è un trader ma insomma su certe cose possiamo applicarle anche al trading quindi anche sul trading dobbiamo avere questa view quindi per esempio ecco multi day qui metto una parentesi swing trading che è quello che faccio io quindi io voglio fare swing trading che tende a realizzare cercare di realizzare guadagni sul mercato tra qualche giorno e qualche settimana quindi riduce al minimo il numero di volte in cui si paga spread o commissione o entrambi dipende un po' dal mercato e questo ci permette invece di starci e crederci come vi dicevo l'operazione per esempio prendiamo questa qui di euro sterlina io adesso sto cerco ci credo non la non cerco di fare su e giù sul mercato quindi non ero su un grafico a 10 minuti dove appena sarò un po' cerco il trend poi appena scendo un po' vado giù no vado su una una view più ampia in questo caso addirittura daily settimanale e cerco un movimento di qualche settimana verso l'alto con tutta calma con la possibilità anche di incrementare una posizione nella direzione in cui credo perché ho fatto uno studio tecnico che per me ha senso andare a lavorare in questo modo e ci credo e vado a gestirla nel caso in cui scenda avrò il tempo di gestirla perché il mio paracadute il mio stop è comunque ampio e qui sotto e avrò il modo per gestire in base ai movimenti di prezzo con tutta la calma necessaria avete capito cioè alla fine il nostro obiettivo nel trading è quello di guadagnare di fare gli imprenditori del trading di fare la nostra azienda di trading e di incassare dei soldi avendo degli obiettivi ok quindi questo per me è il mio poi quali mercati io che faccio il trading quindi so che voglio essere un trader grafico un trader discrezionale voglio essere un trader multiday su in trading ma quali mercati andrò a fare allora tra i mercati come voi sapete ci sono il forex tra i maggiori mercati gli indici le materie prime e le azioni cosa voglio fare voglio fare solo il forex del forex voglio fare solo euro-dollaro allora lì se io del forex voglio fare solo euro-dollaro difficilmente farò un trading su in trading perché non avrò moltissime opportunità quindi difficilmente riuscirò a fare trading di mestiere perché non facendo solo euro-dollaro e pensando su in trading per carità per quante cose ci possono essere però difficilmente insomma andrò a quindi devo avere un po' più di arsenale quindi magari allora posso dire invece il trader intraday invece può dire beh mi prendo uno o due mercati al massimo e faccio solo quelli ok faccio solo quelli io invece che faccio il daily il weekly avete visto una view anche più ampia di qualche settimana addirittura anche qualche mese in qualche caso non sempre qualche giorno qualche settimana è il classico a volte si può andare anche un po' più lunghi vi ricordo l'anno scorso l'anno e mezzo fa ho fatto un paio di operazioni una me la ricordo su euro-dollaro una sulla sterlina soprattutto quella di euro-dollaro partì a novembre con l'operazione si chiusa a fine gennaio quindi succede anche questo io personalmente voglio avere nel mio arsenale un po' tutto quindi voglio avere poter tradare un po' di forex poter tradare qualche indice quando mi danno quando mi danno ovviamente forex ha 70 coppie di valute mi prenderò le 5 6 10 e quindi queste me le guardo costantemente e quelle vado a fare principalmente indici anche qui ci sono gli indici indiani ci sono gli indici di chissà che paesi io magari vado a focalizzarmi su quei principali americani i principali europei magari il giapponese se ci piace però ecco il cinese prendo e cerco di trovare lì magari la mia azienda di trading anche lavora su qualche materia prima quindi l'oro l'argento il petrolio il natural gas questi qui sono sicuramente molto interessanti possono avere dei trend molto persistenti quindi nella mia azienda di trading che commercia perché trading vuol dire commercio fare commerciare voglio lavorare sia sullo scambio di valute però se c'è qualche indice particolare che mi interessa me lo tengo nell'arsenale per poterlo comprare o vendere materie prime e perché no le azioni le azioni sono un bellissimo mondo ci sono un sacco di azioni dobbiamo anche qui e quindi magari andare a focalizzarsi su magari alcuni mercati io per esempio amo il mercato italiano ma non disdegno anche il mercato americano ecco il mercato europeo ci sono anche qui un sacco di situazioni quindi io personalmente faccio questo è ovvio che non deve essere per forza il vostro questo qui ok bene quale metodo voglio adottare questo è importante quale metodo io voglio andare adottare quindi io ovviamente in questo caso essendo che ho deciso nel mio focus di essere un trader grafico andrò a diciamo studiare un metodo che non è solo la tecnica non è solo una strategia ma un metodo di lavoro un approccio di lavoro nelle tecniche grafiche c'è un mare di roba se noi ci pensiamo ci sono l'analisi tecnica è tra l'altro enorme ma un sacco di cose nell'analisi tecnica ci sono poi dei sotto insiemi possiamo dire quindi ci sono un sacco di cose io personalmente ho deciso di focalizzare la mia attenzione sulle dinamiche di prezzo sulla price action ok quindi cosa significa come voi sapete vado a lavorare solitamente vado a prendere due grafici in particolare che sono il giornaliero e il settimanale questi sono i due grafici su cui io tendo a lavorare di più eccoli qua e vado a capire le dinamiche di prezzo nude al massimo utilizzo una media mobile a 20-21 periodi esponenziali l'unica che solitamente ho messo che a volte anche tiro via non è necessaria e fondamentale mi dà magari anche un po' una conferma di quella che è la tendenza ma la vedo già quindi per me è importante la dinamica dei prezzi gli swing qui abbiamo fatto anche con voi svariati webinar nel passato tra l'altro li trovate sia sul canale dg che sul canale youtube mio arduino schenato e quindi focalizzarsi sugli swing per esempio in questo caso io mi sono visto ovviamente avevo una view già su settimanale di possibile acquisto quindi con questo 1-2-3 di movimento di swing con l'ultima barra non l'ultima la penultima barra settimanale questa qui verde che andava a ricoprire completamente quella precedente si era creato un bello swing con una delle mie strategie proprio sul grafico daily oggi ho comprato e l'idea è quella di fare magari un movimento verso l'alto quindi vedete che per me è un esclusivo studio e osservazione di quella che è la price action ok quindi venendo a noi nel piano che ci stiamo facendo qui a livello operativo io andrò a mettere quale metodo voglio adattare metodo price action ok e qui ci metto anche il time frame che io voglio andare a osservare e poi metto in alcuni casi se daily pronto anche 4 ore però questo sapete lo scrivo ma non vorrei mai perché poi molti di voi vanno esclusivamente direttamente lì e non è corretto per il metodo price action però questi possono essere i time frame in realtà e qui me li segno in rosso i principali sono questi ok weekly daily come molti di voi che sono qui sono dei platini dei platinati non dei platini dei platinati conoscono platinati che cosa significa è il così vi dico anche per qualcuno che magari non conosce la nostra attività eccolo qua noi siamo yearforex questo sito è presente dal 2010 in realtà prima eravamo presenti già con il blog yearforex blog che poi dopo è stato convertito al sito yearforex e questo è il nostro sito tra l'altro all'interno oltre ai vari servizi trovate anche dei bei dei begli articoli tra l'altro devo fare uno nuovo perché da un po' che ne ne scrivo uno begli articoli però come diceva sempre qualcuno se non hai niente da dire di importante è meglio star zitti piuttosto che dire solo le fesserie io qui ho scritto dei begli articoli che secondo me hanno senso proprio quindi andateli sono degli articoli quasi di libro quindi andateli a vedere sono molto belli e ci sono le nostre guide gratuite quella della price action che la scaricate gratuitamente da qui e quella che è la guida al train in azione che la scaricate direttamente da qui va bene? quindi qui trovate un sacco di cose relative alla price action metodo avevamo detto benissimo e poi quanti e quindi stiamo focalizzandoci sempre di più stiamo capendo chi siamo e cosa vogliamo essere non è che stiamo sognando di essere dei trader e facciamo un po' di mix ci svegliamo la mattina e come ci salta in mente vogliamo ci attiviamo nell'attività di trader no siamo chiari sappiamo chi siamo ok? quanti soldi posso investire in questa attività? anche qui è importante allora se sono all'inizio inizio ovviamente nel principio più che i soldi da mettere su un conto di trading dovrò pensare ai soldi che mi serviranno per formarmi per esempio quindi magari dedicare un x euro per dire vabbè faccio una scelta e cerco di avere un mentore o comunque un trader che reputo serio prima di tutto come persona e poi anche come approccio al trading e lì cerco di investire qualche soldino per approfondire le sue tematiche il suo approccio che non significa ascoltatemi bene diventare la coppia di quella persona come io dico sempre a chi segue il nostro metodo il platinum eccetera dico sempre non dovete diventare un arduino cioè non dovete copiare quello che faccio io perché io ho la mia sensibilità la mia esperienza io vi ho fatto vedere tre trade non dovete copiarli perché voi non siete me e sicuramente non li gestirete come faccio io ma non perché io li devo gestire meglio ma perché io li ho aperti perché avevo ho fatto degli studi un po' li ho visti un po' alla volta li ho fatti i miei e oggi ieri una settimana fa eccetera ho deciso di fare un trade quindi dovete trovare la persona che come persona vi sembra la persona adatta e come professionista vi sembra che abbia l'approccio adatto a voi da lì si studia perché poi non è solo un investimento di denaro quello lo si può fare tutti ma è anche poi più difficile un investimento di tempo di risorse di sacrifici e di perseveranza ricordatevelo tutte le attività di successo hanno un principio di perseveranza perché non sempre si arriva subito all'obiettivo anzi ci sono no bisogna fare dei tragitti che a volte sono anche tortuosi quindi la perseveranza vi permetterà poi vi permette di bene quindi quanti soldi posso investire in questa attività e quindi quanti soldi per formarmi posso investire questa è la domanda qui non scrivo quanti eccetera ma più vi faccio la domanda no quanti poi potrò almeno all'inizio investire nei mercati e qui ovviamente ognuno ha la sua risposta perché io ovviamente non faccio i conti in tasca a nessuno io so quanto posso permettermi quanto posso permettermi avete capito cioè investire nei mercati che poi se vogliamo fare una metafora potrebbe essere quella di aprire un'azienda e fare l'imprenditore quindi uno può investire nei mercati attraverso il trading oppure investire in un'attività più classica diciamo così ecco è sempre investire quando noi investiamo c'è sempre un po' di rischio cioè quei soldi possono essere persi quante volte mi è successo di vedere anche amici persone che conosco persone che ho conosciuto che hanno mai riaperto un'attività e dopo due tre anni hanno dovuto chiuderla perché non rendeva e hanno hanno investito dei soldi che hanno perso ci sta non è niente non è niente non è un problema è normale ok fallire non è un problema è la normale prassi nel momento in cui si fa una cosa in alcune cose si fallisce in alcune cose no cioè normalissimo quindi non abbiamo paura di fallire nell'investimento è uguale investimento non tutti poi nel tempo ci renderemo conto sono così sono riusciti a crearsi quel vestito per cui investire nei mercati nel breve medio termine che è un po' quello che adesso io vi sto dicendo può essere remunerativo sano efficace e vi porta tranquillità non è detto che tutti quindi questo poi è sono domande che dovete farvi a voi voi stessi ok per esempio quanti sono poi potrò inizio dei mercati nel caso che abbiamo 100.000 euro facciamo esempio nel nostro conto bancario decidiamo di poter investire nel trading 20.000 euro 10.000 euro ok quello che è questo io non posso sapere e non voglio neanche saperlo ok quindi ognuno fa i suoi poi nel tempo uno può dire beh nel conto del trading all'inizio ci metto anche solo 5.000 euro e e un po' alla volta con gli anni perché poi c'è sempre l'esperienza oltre allo studio che è importantissima per certi aspetti è anche più importante dello studio ma ovviamente se non c'è lo studio non si va da nessuna parte e all'inizio posso dedicare magari magari posso essere più liquido ma all'inizio voglio magari dedicare 3.000-5.000 euro nel conto di trading e poi un po' alla volta magari ne darmi un obiettivo da qui a 3 anni e dire beh da qui a 3 anni quel conto di 5 lo voglio fare diventare non so un conto di 50 di 30 un po' perché li avrò guadagnati dal trading un po' perché capisco sempre meglio divento più esperto e capitalizzo io la mia azienda di trading anche qui adesso ci arriviamo dobbiamo capire anche l'obiettivo che vogliamo dal trading quanto vogliamo poi una volta abbiamo aperto quindi un conto e abbiamo i soldi dentro quanto investiremo sul singolo trade quanto nei trading contemporanea quindi se io ho questo famoso conto da 10.000 euro metto sempre una cifra simbolica ogni operazione ben riflettuta e pensata quindi ovviamente qui stiamo parlando del mio tipo di trading ecco quanto decido di mettere decido che ogni trade può al massimo perdere facciamo esempio 250 euro sul capitale che io ho messo benissimo ok quanti in contemporanea quanti quanto posso perdere al massimo in contemporanea 1.000 1.000 1.000 e qui non è più solo una questione di capitale soldi ma è anche una questione di capitale emotivo capitale psicologico cioè io mi sento che se faccio 4 trading in perdita consecutivi da 250 euro ciascuno perdo 1.000 euro poi il quinto mi sentirò ancora lo stesso trader che ha fatto i trading da 250 euro o mi sentirò non bene emotivamente e allora poi potrei fare avere fare delle decisioni avere delle decisioni quindi avere dei comportamenti sbagliati o poco di qualità ecco sempre domande che dovete farvi vedete il trading che poi va anche nell'aspetto soldi e psicologia non è solo e mentale non è solo ah imparo a fare trader grafico è discrezionale e divento un gran trader anche il trading non discrezionale necessita di tutte queste cose ok bene che obiettivo mi pongo rispetto al capitale che investo e nella fascia temporale che investo quindi obiettivo obiettivo rispetto al capitale quindi in euro o percentuale qual è il mio obiettivo a fine mese a fine trimestre e a fine anno in base anche alla mia esperienza cosa posso andare a richiedere a questo capitale investito senza rischiare troppo ma neanche essere troppo perché altrimenti non serve quindi cercando un equilibrio tra rischio e rendimento l'obiettivo rispetto al mio capitale è ovvio che se io metto 10.000 euro nel conto non posso pensare che a fine anno ne avrò 50.000 perché sarebbe un sogno ecco no il classico sogno del topic che io del tema di questa di questo intervento di questo webinar metto 10 ne sogno 50 è bello sognare ma non è così la realtà ne metto 10 magari cercherò a fine anno di andare sui 2-3.000 se sono bravo arrivare anche a 4-5.000 ma non posso pensare che quei 10.000 euro il prossimo anno diventi un 50 poi magari conoscete il trader che vi dice che lo fa magari lo ha anche fatto ma non è detto che voi ci riusciate e lo facciate anche voi quindi mi raccomando dividete il sogno dall'obiettivo i sogni sì è bello a volte sognare ma non portano a molto bisogna darsi gli obiettivi quindi devo darmi degli obiettivi rispetto al capitale che ho non sogniamo riusciamo a realizzare i nostri obiettivi solo se siamo concreti ho 10 cercherò pian piano di mese in mese quindi se io il mio obiettivo è quello di dire ma cerco di fare 3.000 in un anno con i 10 che sarebbe un 30% bene questi 3.000 come me li divido questo 30% sono 3.000 se io faccio andiamo a vedere facciamo una cosa un po' pratica 3.000 diviso 12 sono i mesi vuol dire che con 250 euro al mese io faccio ho questo obiettivo abbiamo detto che il mio trade può anche essere un trade da 250 euro non faccio un milione di trade faccio swing trading cerco le migliori opportunità sui maggiori mercati quindi io facendo questo che è un obiettivo raggiungibile posso se io lo divido addirittura in 4 cioè in 4 settimane addirittura guardate a trade sono 62,5 euro che non vuol dire che voi a settimana dovete fare questo poi c'è anche la cattiva abitudine di farsi gli obiettivi giornalieri secondo me è sbagliatissimo poi magari il trader intraday lo può anche fare non lo so ma io faccio un'idea non esiste magari faccio mi do un obiettivo mensile spesso mi do anche un obiettivo trimestrale ma un obiettivo mensile trimestrale ho un obiettivo annuale che suddivido per i mesi e poi anche settimanalmente guardo un po' come sono messo e cerco di gestire anche a livello amministrativo i miei trade quindi vedete che se voi suddividete poi questi 3.000 rispetto ai 10.000 diviso 12 sono 250 euro non è impossibile bisogna però farsi darsi dei piccoli obiettivi per realizzare poi il grande obiettivo ok quindi obiettivo rispetto al capitale annuale diviso per obiettivo mensile diviso per i per obiettivo mensile avete capito no faccio così esempio 3.000 euro obiettivo annuale rispetto al capitale diviso 12 mesi uguale obiettivo 250 euro ok avete capito ci siamo vedete che non stiamo più parlando di sogni qui non stiamo parlando di sì cose non stiamo facendo la parte tecnica ma stiamo facendo la parte molto importante di pianificazione degli obiettivi tra sogno e realtà dove focalizzare concretamente il tuo trading questo è il topic e e poi questo per me un po' alla volta vuole diventare un lavoro principale o comunque al momento una seconda attività quindi questo l'ho tenuto un po' in bianco come dire anche voi qui dovete capire che se fate trading da un anno non potete pensare che farete solo questo subito dovete un attimo cercare di capire guardarsi indietro capire chi siete cosa avete fatto finora che tipo di risultati state avendo che tipo di obiettivi state avendo eccetera quindi in questo caso anche qui è sempre una domanda che vi dovete fare a voi stessi quindi voglio farlo come lavoro benissimo datevi un tempo quindi darsi possiamo scrivere così darsi un tempo per far sì che il trading diventi un attivo ok un attivo che può essere ripeto un attivo di seconda o terza entità rispetto alle vostre altre entrate o anche principale non è assolutamente impossibile e quindi poi con questo farsi un piano farsi un piano quindi farsi un piano che prende anche alcune alcune di queste cose noi per chi conosce i platinati io ogni anno già un po' lo evolvo lo gestisco e quindi vado a farmi un piano e vado a mettere una parte un attivo magari senza accendere a posto fare farsi un piano vuol dire mettere alcune di queste cose e e quindi scriversi no cioè dire benissimo lavorerò su questi mercati lavorerò con queste tipologie di metodologie di entrata e cercherò di gestire le mie posizioni in questo modo avrò un rischio circa di questo tipo quindi una parte di questa e vi faccio il mio piano vedete che se voi iniziate a ragionare in questi termini probabilmente ci vuole tempo ci vuole tempo eccolo qua darsi un tempo però vedrete che intanto sapete chi siete cosa volete vedere nei grafici o nel vostro metodo cosa fate quanti soldi avete che obiettivi avete quindi negli obiettivi ci starà anche la gestione dei trade e questo vedrete che un po' alla volta vi porta dal sogno alla realtà purtroppo il sogno ripeto come dicevo prima è bello ma non sempre poi è qualcosa che si realizza perché è un po' così invece l'obiettivo è ciò gli obiettivi è ciò che possono portarci a realizzare quello che ci siamo prefissati bene allora sono le 18.51 io sto parlando da quasi un'ora e non me ne sono neanche accorto domande avete domande in questi ultimi dieci minuti riguardo questa bella lezione a mio avviso su questa questo tema su cui non mi ero mai ben concentrato con voi e invece ho voluto concentrarmi questa sera niente vedo che non ci sono domande tutto chiaro allora vi è piaciuto almeno vi ha dato qualche spunto che magari non avevate prima o magari avete ritarato un po' la cosa Andrea dice forse mi sono perso un pezzo ma una percentuale annua da non sognatore quanto potrebbe essere non c'è una risposta Andrea non c'è una risposta Andrea non c'è è ovvio che se tu mi parli di percentuali dove tu metti perché poi la percentuale dipende molto dal rischio che tu ti prendi e io qui ho messo un rischio che è vero che uno può dire è il 2,5% ma io ho fatto una percentuale che su 10.000 penso possa essere gestita anche a livello emotivo è molto importante nella gestione dei propri soldi nel trading non solo in investimenti in generale ma nel trading darsi uno come dire un rischio emotivo cioè io posso anche avere un milione di euro ma magari faccio fatica a perdere 500 euro sul trade allora avete capito stiamo parlando di niente quindi dobbiamo trovare un equilibrio tra il rischio percentuale e il rischio emotivo questo poi si ribalta sul rendimento quindi un rendimento ovvio io quando ho fatto l'esempio da sogno cioè avere i 10.000 e pensare che a fine anno un euro 50.000 è proprio da sognatore no? poi lascia stare che c'è chi ce l'ha fatto chi l'ha fatto e poi magari l'anno dopo se l'hai anche mangiato tutto perché io ho conosciuto anche tra l'altro situazioni di questo tipo ma non perché le ho fatte io facendo formazione facendo coaching eccetera ho visto anche queste cose ma spesso chi fa questi grandi rendimenti poi se li mangia tutti non è un trading serio professionale che dopo 15 anni ancora lì io faccio trading da tantissimi anni e sono ancora qua ok non ho cercato le montagne russe quindi il sognare è fare il 500% all'anno non ci siamo quindi cerchiamo di rimanere in una situazione normale di obiettivo darti una percentuale potrei essere limitativo o addirittura anche troppo quindi non voglio mettere una percentuale quella che ho fatto vedere qui potrebbe essere una giusta un giusto modo per chi fa trading senza essere troppo spinto verso l'alto e neanche troppo verso il basso ok allora vedo che avete scritto un po' adesso molto bene molto bene mi piace allora andiamo a vedere Andrea ok Luca dice live bomba davvero molto utile bene Silvia dice tutto perfetto Arduino grazie Andrea si è risposto dipende molto dal rischio ovviamente bravissimo Andrea tra l'altro Andrea è anche un platino consigli molto utili dice Gian Domenico soprattutto la parte in cui dici che bisogna darsi gli obiettivi reali eh sì eh sì eh sì eh ok poi Claudio dice il rendimento deve essere comunque superiore al rendimento che si avrebbe con un investimento a rischio zero tipo i BTP sì è un'altra roba insomma questo è un lavorare i BTP è un metterli là e non è un lavorare no cioè è un spostare i soldi in un qualcosa quasi immobilizzarli lì voglio dire no è un'altra roba insomma Giuseppe dice sono in auricolare col telefono che poi è Damiano Damiano grande Damiano eh perché in effetti sì sono in auricolare col telefono sai che io ho appena fatto la mia decisione dopo una certa evoluzione nel mio piano e ritengo questo webinar davvero bello per tutti secondo me verrà apprezzato col tempo non tutti fanno webinar del genere grande grande Damiano eh sì Damiano ha fatto una grande scelta nell'ultimo periodo e bravissimo perché non è da tutti ben razionalizzata e ragionata tra l'altro Damiano è con noi nel Platinum da ormai due anni abbondanti sicuro e grande grande Damiano ciao Arduino dice Stefano consiglia a tutti il tuo corso che abbiamo fatto ultimamente veramente molto utile per iniziare un saluto eh grande grazie Stefano trovate tutto quanto sul sul sito che vi ho fatto vedere grazie Stefano poi abbiamo Luca Hood che dice io sono un mangione comunque Euro Sterlina è in salto fiume Waikov in salto fiume madonna non so io non sono un esperto di tutto del trading ragazzi so che è Waikov so tutte le sue teorie benissimo però benissimo mi fa piacere che ah guadagni grandi dici ah ok ok benissimo insomma ognuno fa quello che deve fare io oggi ovviamente vi ho dato poi come vi ho detto sempre all'inizio se c'eravate dall'inizio avete visto io ho tenuto a sottolineare il fatto che quello che dico questa sera ovviamente questa è una mia linea quando iniziavo con le domande vi ricordate addirittura ho detto trader fondamentale trader tecnico entrambi discrezionale non discrezionale o entrambi intraday multiday o entrambi e via dicendo proprio per non poi ovvio per farvi capire un po' ho dovuto buttare giù delle delle cose no Alessandra dice seguite Arduino numero uno grazie Alessandra tra l'altro ti chiami come un mio ormai storico cliente non so se sei figlia nipote cugina sorella di Gianni però bene grazie Gian Domenico dice quando stai per aprire un trade quanto tieni conto del rapporto rischio rendimento non tantissimo sinceramente Gian Domenico perché poi il rischio rendimento preventivo non sempre poi è quello effettivo quindi io non l'ho fatto nel tempo ho scritto anche dei libri su questo sicuramente almeno inizialmente va bene però oggi con l'esperienza che ho col tipo di bagaglio che ho di trade di click che ho fatto di trade fatti persi guadagnati eccetera devo dire che non è più una delle cose primarie che vado a guardare per un mio trade capito preferisco la qualità della struttura e poi vado a lavorare anche magari su un possibile rischio rendimento ma non no non amo gli stop stretti troppo stretti non stiamo parlando ovviamente non è che amo far muovere la posizione perché comunque quando entro non sempre per forza ho subito ragione comunque va subito dalla parte mia mi piace lavorare in progetto e fare dei trade di un certo tipo io faccio trader di professione da tanti anni ho iniziato a fare trading ormai più di 15 anni fa grande Alessandra allora hai svelato hai svelato hai svelato allora ti chiamerò Alessandra adesso grande Gianni sei il migliore dice Stefano insegna a stare con i piedi a terra il migliore ce n'è sempre uno meglio però che insegna a stare con i piedi a terra sicuramente sì grazie Stefano allora Luca dice grazie per la lezione aspetti fondamentali da sviluppare bene bene allora intanto mi fa piacere di aver dato qualche spunto a voi ecco pensateci cioè se volete fare trading seriamente e non pensate subito che dall'oggi al domani questo diventa il vostro lavoro principale ci vuole tempo credo che questo sia un webinar da riascoltare lo troverete comunque nei prossimi giorni nel nostro canale youtube quello di mio quello di uno schenato ok lo trovate sulla playlist corso price action la trovate nelle varie playlist del canale youtube c'è una playlist che si chiama corso price action ci sono oltre 60 video tra l'altro molti sono webinar con IG che abbiamo fatto negli anni va bene allora io vi ringrazio ovviamente sono le 7 quindi ci salutiamo vi auguro una buona cena una buona serata vi auguro un buon trading simple per la settimana e per chi è platinum o per chi sarà e vorrà diventare platinum ci vediamo là domani mattina in trading room alle 9 grazie a tutti un saluto